Il clan imponeva il pizzo al mercato, c'è anche il figlio di un boss tra gli otto destinatari di misure cautelari per esponenti del clan Mazzarella. L'organizzazione imponeva il pizzo ai commercianti del mercato della Maddalena, decisive le intercettazioni telefoniche e ambientali. Trasporto pubblico è un venerdì nero, anche a Napoli sfila la protesta contro le politiche del governo Renzi sulla mobilità. Nel capoluogo buona l'adesione allo sciopero degli autisti della NM, quasi la metà dei mezzi fermi nei depositi. Uccisa dal marito, scontro con la procura, il giallo della telefonata al 118 dell'assassino di Stefania. Per la procura è una sorta di confessione, per la difesa la prova di un immediato pentimento dopo il raptus di follia. Mangia funghi e muore in ospedale, tragedia nel Sannio, una 84enne di Sant'Angelo a Cupolo muore dopo aver mangiato funghi. La corsa all'ospedale Rummo, poi il decesso, fuori pericolo la figlia. Crisi, Foti cambia solo due pedine, vini rimpasto al comune di Avellino, il sindaco firma le deleghe per Bruno Gambardella, nuovo assessore alla cultura e all'istruzione, scelta civica lancia l'avvocato Paola Valentino al patrimonio. Ancora tensioni nel gruppo PD. Benevento Calcio, il patto con la strega, nuova sinergia tra il club giallo-rosso e il mondo dell'impresa per rilanciare il territorio sannita a livello nazionale. Sulla maglietta della squadra lo storico marchio e arriva la bottiglia celebrativa della promozione in bimbi. E questi erano i titoli dell'edizione delle 14, ben ritrovati con 8 Channel News. In apertura andiamo a Napoli per la cronaca. Imponevano il pizzo ai commercianti ambulanti del mercato della Maddalena. In carcere sono finite 8 persone ritenute affiliate al clan dei Mazzarella. Arrestato anche il figlio del boss. Sentiamo Paola Iandolo. C'è anche il figlio di un boss tra gli otto arrestati a Napoli nell'ambito di un'indagine sul pizzo del clan Mazzarella ai commercianti del mercato della Maddalena nella zona di Piazza Mancini. Tra gli arrestati figura anche Francesco Rinaldi, 26 anni, figlio di Francesco, detto Pascià, reggente della famiglia camorristica dei Mazzarella per conto del capo clan Vincenzo. Secondo quanto emerso dalle indagini che si sono avvalse anche di intercettazioni ambientali telefoniche e delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia vittime delle estorsioni erano i commercianti ambulanti di un noto mercato rionale a cui il clan imponeva a prezzi maggiorati la fornitura di buste di cello fanno usate per confezionare i capi di abbigliamento contraffatti. Il genero dello storico capo clan Vincenzo Mazzarella ricopriva il ruolo di capo zona. Il figlio del Pascià invece faceva l'emissario del padre. Gli altri sette arrestati, tra cui due donne, infine, imponevano ai venditori ambulanti italiani e stranieri una tangente di 10 euro a settimana, solo per consentire loro di vendere la merce del mercato. Il clan imponeva anche l'acquisto a prezzi fortemente maggiorati di prodotti con il marchio falso di note griffe di moto nazionali e internazionali, in particolare scarpe, occhiali e abbigliamento. Le altre persone arrestate sono Giovanni Nunziata, 22 anni, Alessandro Cecere, 23, Salvatore Ramaglia, 38, Luisa Ottaviano, 48 anni, e Stefania Lauro, di 44, tutti in carcere. Per Cirocaforio, 47 anni, e Fortunato Gargiulo, 31, sono stati disposti i domiciliari. La donna uccisa dall'ex marito a Sant'Antimo per il PM l'omicidio non è stato premeditato. Esplode la polemica. Ieri intanto alla fiaccolata a Miano, il padre della vittima chiede l'ergastolo. Oggi i funerali della 28enne nella chiesa del Rione. Don Guanella. Simonetta Iepariello. Erano cento le fiaccole accese che ieri hanno illuminato le strade di Miano in ricordo di Stefania Formicola, la ragazza di 28 anni, uccisa con un solo colpo di pistola a Sant'Antimo dal marito, Carmine Daponte, ora in carcere. Oggi intanto si terranno i funerali nella chiesa del Rione Don Guanella, il quartiere d'origine della famiglia Formicola. Sarà fissata quasi certamente per domani invece l'udienza di convalida del fermo di Daponte. Il PM intanto ipotizza l'omicidio aggravato dal rapporto di coniuge e dai maltrattamenti, ma non la premeditazione. Non entro nelle valutazioni della Procura anche perché non sono un penalista, commenta l'avvocato Titti Beccamanzi, che stava assistendo Stefania, nella procedura di separazione consensuale dal marito, ma che ci fa una persona alle 5 del mattino con una pistola. Sulla stessa linea la deputata di Forza Italia, Amara Carfagna, che da ministro delle pari opportunità fu la promotrice della legge sullo stalking. Trovo singolare escludere la premeditazione quando si va da una donna armati dopo averla già sottoposta ad una serie di minacce ed intimidazioni, dice la Carfagna. Intanto, quando è stato interrogato subito dopo il delitto, Daponte si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'avvocato difensore parla di colpo partito accidentalmente. Sull'arma dunque si concentrano le indagini sulla perizia balistica. La donna intanto non aveva mai denunciato il padre dei suoi figli per paura e perché sperava ancora di tenere insieme la famiglia, hanno spiegato i genitori. Cambiamo argomento venerdì in nero per il trasporto pubblico con scioper in tutta Italia. Napoli e provincia, buona l'adesione, ma è stato timido l'avvio dell'agitazione. Rocco, fatti bene. Questa mattina le persone sono venute a prendere il treno. Purtroppo questa mattina c'è poca affluenza, persone, quasi niente. Spero che comunque arrivi qualcuno perché lo sciopero è stato quasi revocato. I aderenti sono pochissimi. Le parole di questi di Colantia sono l'emblema dello sciopero generale proclamato per oggi dall'Unione Sindacati di Base. In mattinata pochi disagi e tanta disinformazione. Poi con il trascorrere delle ore è cresciuta a Napoli e provincia l'adesione degli autisti di bus e tram allo sciopero proclamato da OSB. Secondo l'azienda quasi la metà dei mezzi sono rimasti fermi nei depositi. Disagi si registrano in particolare in provincia tra Portice ed Ercolano. L'Unione Sindacati di Base parla di adesioni nei depositi di Cavalleggere e Vie delle Puglie che vanno oltre il 50%. Si prospettava dunque una giornata nera per Napoli e provincia e in un certo senso lo è stata. Anche se lo sciopero è partito in maniera timida. Nella prima mattinata la circolazione si è svolta in maniera quasi del tutto regolare. Le corse della linea 1 della metropolitana non hanno subito variazioni o interruzioni. Regolari sono state anche le corse delle tre funicolari mentre alcuna soppressione si è registrata sulla circunvesuviana. Alle 13 però traffico in tilt nel cuore di Napoli a causa di un corteo organizzato da OSB. I manifestanti hanno ostruito l'accesso alla Galleria Vittoria da via Arcoleo con alcuni sparti traffico. Disaggia anche per quanto riguarda la circolazione di autobus e tram. Di circa 300 autisti alle dipendenze dell'azienda napoletana per la mobilità soltanto il 22% si è fermato aderendo allo sciopero. Il risultato finale è stato comunque il caos per tanti pendolari che disinformati e disorientati sono stati costretti a modificare le proprie abitudini di viaggio. Una madre lavoratrice del pubblico trasporto è stata pestata a sangue da un trans. Ora rischia di aver contratto l'HIV. Dovrà affrontare mesi di terapia tra paura e controlli. È stata picchiata mentre fa il suo lavoro a bordo del bus e ora rischia l'HIV. A colpire l'autista CTP mercoledì intorno alle 13 sulla linea che da Napoli porta a Casoria è un viaggiatore senza ticket, un transensuale portatore di epatite C e probabilmente infetto dall'HIV. La donna non è stata soltanto aggredita, strattonata, presa a calci e pugni nello stomaco, graffiata su viso e petto. Ora la donna dovrà affrontare sei mesi di profilassi contro il virus dell'AIDS. È sconvolta e dovrà prendere compresse per 28 giorni, recarsi ogni due giorni a controllo all'ospedale Cotugno e sottoporsi ad una terapia speciale per oltre sei mesi. Insomma è come fare una chemioterapia con tutti gli effetti collaterali con la paura di aver contratto quella maledetta malattia. La donna è stata aggredita dopo essere salita su un autobus per controllare il saldo dei biglietti. È una madre di famiglia e una lavoratrice. È stata pestata perché faceva il suo lavoro, assolveva le sue mansioni di controllare il pagamento del biglietto. Tutti erano scesi dal bus, tutti quelli che non avevano pagato il biglietto. Il trans invece si era rifiutato. Poi la lite, la dipendente della società dei trasporti che va a terra e viene pestata a sangue e ora dovrà temere per mesi di aver conseguenze ben più serie dell'aggressione. Dovrà temere per la sua salute. Sono in rivolta i dipendenti del pubblico trasporto a Napoli e provincia. Troppi i rischi, troppa la paura per lavorare. Nei mesi scorsi tanti gli scioperi per chiedere garanzie in un comparto diventato un vero e proprio far west di sangue e violenza. Attentato incendiario alla sede del PD di Sarno in provincia di Salerno. Stiamo vedendo alcune fotografie. Le fiamme si sono sprigionate nella notte davanti al portone di ingresso in via Fabricatore. L'allarme è stato lanciato dai residenti. Subito dopo sono intervenuti i carabinieri e il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, che è anche presidente della provincia. Sul luogo rinvenute tracce di benzina. Il partito democratico della cittadina sarnese da tempo era nel mirino di ignoti che hanno fatto comparire nelle scorse settimane scritte offensive e minacciose sui muri vicino alle case degli assessori PD. Frasi che inneggiavano al Duce e all'Isis contro i Democrat. Il PD morirà per mano di Allah e l'Isis vuole la sua testa. Le scritte comparvero subito dopo che il sindaco aveva revocato la cittadinanza onoraria Mussolini. Immediata è arrivata la solidarietà della segreteria provinciale del PD, che ha chiesto anche l'intervento dei vertici nazionali. Per il momento non si esclude nessuna pista. La politica da D'Alema all'UGL si allarga il fronte del no al referendum. Proseguono gli incontri in Campania verso l'appuntamento referendario del 4 dicembre. Vediamo. L'endorsement di Obama per il sì al referendum a me portò male quello di Clinton. Alla fine persi le elezioni regionali. E così Massimo D'Alema, ieri prima a Napoli e poi ad Avellino per due incontri in Campania, ha sostenuto le ragioni del no alla riforma costituzionale. Poi alla fine decidono gli italiani. Io dopo l'affettuoso incoraggiamento di Clinton persi le elezioni regionali. Per l'ex presidente del Consiglio, in caso di vittoria del no al referendum, non c'è bisogno di un governo istituzionale per rifare la legge elettorale. La rifà il Parlamento, competere al Capo dello Stato, garantire che ci sia un governo. Può essere quello attuale oppure no. In ogni caso non c'è alcuna conseguenzialità tra esito del referendum e crisi di governo. Siccome si tratta della nostra Costituzione, la quale è destinata a durare più di un governo, io credo che non ci si debba lasciare condizionare da elementi contingenti, ma si debba valutare il merito delle norme che vengono proposte. Ma è un fronte ampio quello del no che arriva fino ai lavoratori dell'UGL che questa mattina con Renata Polverini hanno presentato ad Avellino il loro comitato. Nasce con l'obiettivo di percorrere 10.000 km lungo lo stivale e dire no a questa riforma. Non vogliamo consegnare con questa riforma il Paese ad un uomo solo al comando, che sarà il Presidente del Consiglio. E non vogliamo soprattutto che il Senato si trasformi in una seconda Camera intanto che ostacolerà sicuramente le attività del governo, ma che vedrà amministratori a part time ad occuparsi invece di problemi importanti. Un'anziana di Benevento è morta dopo aver mangiato dei funghi velenosi che aveva raccolto nel giardino della sua abitazione. Paura anche per la figlia che però è fuori pericolo. Il servizio di Alessandro Fallarino. Dramma ieri sera a Benevento, dove una pensionata è morta dopo aver mangiato probabilmente dei funghi velenosi. Ricoverata anche la figlia della vittima, che per fortuna non è in pericolo di vita. Si tratta di una 84enne di Sant'Angelo a Cupolo, arrivata al pronto soccorso dell'ospedale Rummo nella notte tra mercoledì e ieri. Chiari sintomi di una forte intossicazione alimentare, tanto che i medici ne avevano immediatamente disposto il ricovero nel reparto di rianimazione. Ieri sera il cuore dell'anziana ha smesso di battere per sempre. Dell'accaduto sono stati informati i carabinieri della stazione di Benevento, che hanno acquisito testimonianze e la cartella clinica della malcapitata. Secondo una prima ricostruzione, sia la donna che la figlia, avevano cucinato e mangiato presso la loro abitazione alcuni funghi trovati nelle ore precedenti in giardino. È stato condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata. Il GUP del Tribunale di Salerno, Pietro Indinimeo, lo ha ritenuto colpevole. Un quarantenne colpevole di aver molestato e stuprato per sei lunghi anni la nipotina. Lo zio Orco avrebbe abusato di lei fin dalla tenerissima età, a scoperchiare il vaso di Pandora fatto di orrori senza fine, palpeggiamenti all'inizio, poi violenze complete e reiterate. Secondo la ricostruzione dei giudici, i fatti sarebbero avvenuti tra il 2008 e il 2014, a far scattare le indagini i sospetti di una insegnante che aveva notato il malessere della piccola. I genitori la accompagnavano a casa della nonna e lì lo zio la tratteneva per ore nella sua camera. La condanna a 7 anni è arrivata dopo aver raccolto le drammatiche testimonianze della vittima e le consulenze degli esperti chiamati a verificarle. I legali dell'imputato hanno annunciato ricorso in appello. Andiamo adesso al comune di Avellino. Foti cambia solo due pedine. Mini rimpasto in giunta. Il sindaco firma le deleghe per Bruno Gambardella, nuovo assessore alla cultura e all'istruzione, e per l'avvocato Paola Valentino, di scelta civica, che prende il patrimonio. Ancora tensioni nel gruppo dei democratici. Il mini rimpasto è servito. Ad Avellino nasce la sesta giunta Foti. Il sindaco cambia solo due pedine, sette le conferme e un riposizionamento. Le new entry sono il docente Bruno Gambardella, D'Ameliano, professore di filosofia, militante nel PD, che va alla cultura e all'istruzione, e l'avvocato Paola Valentino, in quota scelta civica, si occuperà di patrimonio e prende il posto di Elena Tordela, che con Marco Cillo lascia la giunta. Io sono soprattutto un militante, poi anche un dirigente del Partito Democratico, quindi se il partito ci ha chiesto di provare a dare una mano in questa fase alla città di Avellino, soprattutto il Partito Democratico viene dopo, viene prima di tutto alla città di Avellino, ci proviamo, proviamo a dare questa mano. Io credo molto nell'idea del distretto culturale, la possibilità di mettere in rete le tante ricchezze culturali e architettoniche che la nostra città offre, anche e soprattutto in prospettiva di aria vasta. La prima cosa da fare innanzitutto è censire, cioè avere idea di che cosa stiamo parlando, quindi capire quali sono i beni a disposizione del Comune, capire in quali Stati si trovano e poi di conseguenza agire. Al posto di Cillo, alle politiche sociali, Foti sposta a Titti Mele. Non mancano tensioni nel gruppo PD per questo nuovo esecutivo, Giacobbe resta perplesso soprattutto sui tempi anticipati dal sindaco rispetto a quelli ipotizzati all'inizio, mentre ci va giù più dura Adriana Percopo. La mia posizione resta critica fin dall'approvazione del bilancio e mi sembra non ci sia alcuna chiarezza sulla cornice politica in cui saremo chiamati a muoverci. I problemi non mancano anche nell'area dei Dameliani, che ha espresso il neoassessore Gambardella, mentre Medugno e Melillo potrebbero rientrare a breve nel PD. Più isolato appare Salvatore Cuciniello, per il quale si parla di un'adesione al gruppo di Gianluca Festa. Torniamo a Salerno, continua il braccio di ferro tra i vigili e il Comune, dopo che il Municipio ha disposto visite specifiche, visti tanti certificati medici presentati dai caschi bianchi. L'assessore De Maio sottolinea, così parte la riorganizzazione del personale. Giovanni Battista Lanzilli. Visite mediche per tutti i dipendenti municipali, a cominciare dai vigili urbani. Il Comune di Salerno prende posizione dopo le polemiche relative alle decine di certificati presentati dai caschi bianchi, che li rendono di fatto inabili al lavoro di pattuglia. Accuse rispedite però al mittente dai sindacati di categoria, come raccontato ieri anche da Otto Channel, ma intanto Palazzo di Città tira dritto, anche se l'assessore Mimmo De Maio sottolinea che non c'è alcuna volontà inquisitoria. È un'opportunità che la norma consente, al di là di quelle che sono le visite periodiche, fare degli approfondimenti attraverso un'attività svolta da una struttura pubblica dell'ASL, per far sì capire bene qual è la situazione della forza lavoro nella nostra piena disponibilità, appunto finalizzata a garantire una riorganizzazione di tutte le attività dell'amministrazione. Loro lamentano una sovraesposizione, la lotta all'accattonaggio o in generale agli ambulanti sul corso, quando dicono che le pattuglie potrebbero essere dislocate meglio e più utilmente altrove. Lei che ne pensa? Io do atto che il lavoro che viene svolto dai vigili per quanto riguarda la repressione di fenomeni come questo, è un lavoro impegnativo, pericoloso in alcuni casi, per questo noi più volte sollecitiamo anche la collaborazione delle altre forze dell'ordine, perché chiaramente da soli, come colpo dei vigili, non riusciamo a dare risposte esaustive in tal senso, sempre partendo dal presupposto che io ritengo fondamentale, che le norme che oggi ci sono nel nostro paese per debellare questi fenomeni sono assolutamente inefficaci. O si passa ad una fase più repressiva, e lo voglio dire senza mezzi termini, questa lotta sarà sempre impari. Nuova sinergia tra il Benevento Calcio e il mondo dell'impresa per rilanciare il territorio sannita a livello nazionale. Sulla maglietta della squadra arriva lo storico marchio dello strega Alberti e arriva anche la bottiglia celebrativa della promozione in Serie B. Un nuovo appuntamento che vede protagonisti il Benevento Calcio e il territorio sannita. Allo stabilimento strega, infatti, è stata presentata la sinergia tra il club calcistico e l'azienda. Con la bottiglia celebrativa della promozione in Serie B e la maglietta da gioco recante anche il marchio strega. Un esempio di buone pratiche che ha il calcio come filo conduttore, come ha ricordato l'amministratore del Benevento Calcio, Ferdinando Renzulli. Noi stiamo facendo quello che normalmente una realtà del genere dopo anni di sacrifici credo si meritasse. Quindi stiamo incontrando la realtà di Benevento che ci sta dando soddisfazioni, è vicina alla nostra realtà imprenditoriale. Stiamo facendo quello che possiamo per venire incontro a queste realtà, dove ci sarà il piacere di averci saremo presenti, dove ci sarà la necessità anche per motivazioni più sociali cercheremo di essere presenti come già stiamo facendo. Una sinergia benedetta anche dai vertici della strega Alberti. Lo sport può essere un ottimo palcoscenio da questo punto di vista, nel senso che pone in evidenza una realtà territoriale che altrimenti l'anno scorso era nota solo perché c'era stata l'alluvione, magari e non per fatti positivi. Quindi poter mettere in una luce positiva una collettività è un fatto molto importante. Non sono molte le società di calcio che stringono rapporti con le aziende del territorio. Basta vedere i grandi colossi che magari hanno sponsor tecnici diversi. Suicidio all'alba in via Nicolodi alle spalle del centro sociale Samantha della porta di Avellino a togliersi la vita una settantenne che si è lanciata dal balcone di casa dal terzo piano. A lanciare l'allarme sono stati i parenti e i vicini di casa ancora sotto shock. Quando sono arrivati i soccorsi per la donna non c'era più nulla da fare. Sull'accaduto indagano gli investigatori. A quanto pare la donna soffriva di depressione. Di nuovo a Salerno, a distanza di mesi dagli allagamenti del centro storico, restano un mistero le cause del fenomeno che ha provocato tanti danni e polemiche tra i commercianti e i residenti della zona. Anche gli esperti confermano, non è emersa una causa certa. Rossella Strianese. Era febbraio quando buona parte del centro storico di Salerno, soprattutto i negozi di Piazza Portanova e dei mercanti, si ritrovò sommerso dall'acqua per un chiaro innalzamento della falda sottostante. Dopo otto mesi le cause di quel fenomeno, malgrado le analisi e il team di esperti incaricato dal comune, non sono ancora chiare. Un giallo senza soluzione perché dalla relazione dei tecnici si rileva che si è trattato di un fenomeno indeterminato, ma sicuramente non provocato da cause naturali. La squadra guidata dal professore Maurizio Giugni dell'Università Federico II di Napoli era stata chiamata a relazionare sulle cause e soprattutto sui rischi per la stabilità degli edifici della zona e di tutto il cuore antico della città, che poggia su una vasta falda acquifera e due torrenti sotterranei che sfociano a mare. Oggi, al lavoro completato, c'è una rassicurazione. La falda risulta stabile, si legge nella nota diramata dal comune, ma è l'unico dato certo. Per i commercianti, per fortuna, l'incubo è finito. No, da febbraio no. Fortunatamente nessuna infiltrazione è più cessata, sì. Vi hanno spiegato da allora qual è stato il motivo per cui ci fu quel fenomeno? No, non ci hanno mai detto niente, quindi di colpo è scomparsa l'acqua dalla sera alla mattina e poi che era febbraio, più o meno. Poi dopo non abbiamo avuto più di questi problemi, però nessuno ci ha detto niente, assolutamente. Restano però i danni che per alcuni di loro nessuno ha pagato, non essendo state individuate precise responsabilità. Il comune tuttavia non esclude che il fenomeno possa riproporsi. Benevento ha incontrato stamattina la stampa per annunciare un servizio straordinario di controllo su tutto il territorio sannita. Sentiamo di cosa si tratta del servizio. Questa mattina il nuovo questore di Benevento, Giuseppe Bellassai, ha presentato il progetto Provincia Sicura. Si tratta di un'iniziativa, appoggiata ovviamente dal Ministero dell'Interno, che vedrà coinvolti numerosi poliziotti, provenienti anche da fuori provincia, per effettuare una serie di controlli straordinari non solo in città, ma anche e soprattutto in tutti i centri sanniti. A snocciolare le fasi operative è stato lo stesso questore Bellassai, prima e i funzionali responsabili dei fai di uffici della questura successivamente. In pratica il questore ha disposto che i radar della polizia vengano allungati oltre i confini del capoluogo, puntati su cinque macro aree del territorio sannita, sulle quali saranno concentrate le attenzioni, un lavoro nel quale saranno chiamate a svolgere il loro ruolo, divisioni anticrimine, squadra mobile, digos e volante, che si avvarranno anche del reparto prevenzione crimine e del coinvolgimento delle polizie locali. L'obiettivo è monitorare le diverse realtà, offrendo all'anticrimine, ha poi spiegato il dottore Bellassai, un quadro complessivo che consenta di individuare, dopo averlo studiato, le strategie migliori a prevenire e contrastare i fenomeni criminosi e le criticità presenti nel sannio. Assunzione dei figli e funerale pagato sono le richieste avanzate dalle RSU alla General Electric Avio di Pomigliano d'Arco. Sentiamo i dettagli. Assunzioni dei figli e funerale pagato alla morte del dipendente sono le richieste avanzate dalla RSU alla General Electric Avio di Pomigliano d'Arco, azienda che produce componenti meccaniche per l'aeronautica civile e militare. Le richieste sono state inserite nella trattativa per il rinnovo del contratto integrativo aziendale e che riguarda gli stabilimenti di Pomigliano, Torino e Brindisi. Sulla stessa falsariga le rivendicazioni di FIOM, FIM, WILL, FISMIC e con qualche variazione dell'UGL, mentre non ha espresso dissenso il sindacato autonomo FALMS. Un misto di richieste paternalistiche e di bombe atomiche che non possono essere istituzionalizzate, ma che sotto banco sono state e continuano ad essere praticate in tanti settori dell'occupazione, non solo privata. Quello che ha partorito la RSU di un'azienda internazionale d'avanguardia come la Avio di Pomigliano d'Arco che produce componenti meccaniche è un tentativo emblematico di riportare indietro le lancette dell'orologio della storia, dettato dalla paura di industrializzazione 4.0, di cui quasi nessuno sa definire per bene i contorni. Che cosa si elencava nel comunicato? Un misto di richieste capace di far saltare dalla sedia chi non conosce l'intera storia dello stabilimento centenario. Tra i benefit venuti fuori dalla discussione c'erano orologio, penna, soccorso funerario e prestiti a costo zero, ma soprattutto l'assunzione di figli di dipendenti con l'individuazione di procedure che assicurino la certezza di una quota certa di assunzioni. A Salerno revocate le autorizzazioni al sito di compostaggio dei rifiuti. Ora il Comune vuole affidare la gestione a Salerno Pulita. Sullo sfondo resta l'inchiesta dell'autorità anticorruzione. Fino a qualche mese fa era considerato un impianto di eccellenza. Poi, subito dopo che se ne è occupata l'autorità nazionale anticorruzione di Cantone, il sito di compostaggio di Salerno ha iniziato a rivelare tutte le sue criticità. Un mese fa la prima avvisaglia con un braccio di ferro tra Comune e Società di Gestione e già si parlava di rescissione del contratto. Poi ieri la decisione è arrivata direttamente dalla Regione Campania che ha revocato alla Daneko, la Società di Gestione dell'Impianto di Trattamento dei Rifiuti, tutte le autorizzazioni. Il provvedimento si basa sulla mancanza di copertura assicurativa. Per 45 giorni dunque la gestione resterà in capo alla Daneko che potrà impugnare l'atto, poi passa direttamente nelle mani del Comune di Salerno che ora dovrà individuare un nuovo gestore. Dopo il vertice in prefettura tra l'assessore all'ambiente, Angelo Caramanno e i sindacati, si valuta l'opportunità di passare l'impianto a Salerno Pulita, la municipalizzata che si occupa della raccolta dei rifiuti, salvaguardando il lavoro dei 15 dipendenti dell'impianto. Intanto, all'inchiesta di Cantone potrebbe seguire presto anche quella dei magistrati salernitani. Sulle attività del sito di compostaggio pesano molte ombre. Da tempo l'impianto non rispetta i parametri funzionali e la stessa Salerno Pulita è già nel mirino dell'anticorruzione che vuole fare luce sui compensi dei componenti della commissione di collaudo e su una variante in corso d'opera di 3 milioni di euro che forse non era necessaria. Si configura dunque un danno erariale che il Comune è comunque chiamato a chiarire, a prescindere da chi gestirà da oggi in poi l'impianto di compostaggio. E da parte mia è tutto, grazie ad Orlando Matarazzo in regia. Adesso c'è il TG Sport, poi alle 15 una nuova edizione in diretta di 8 Channel News. Arrivederci. Grazie.